buongiorno amici e amiche buona mercoledì 29 settembre 2021 oggi santi arcangeli michele raffaele gabriele ascoltiamo e commentiamo il vangelo secondo giovanni capitolo 1 versetti 47 51 poi gli disse in verità in verità io vi dico vedrete il cielo aperto e gli angeli di dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo natanaele in questo vangelo riconosce chi è davvero gesù perché gli ha detto alcune cose personali e poi il signore annuncia che vedremo gli angeli salire e scendere sopra il figlio dell'uomo due considerazioni la prima anche noi possiamo riconoscere in modo sempre più personale e intimo il signore se abbiamo il coraggio di lasciarci incontrare se sappiamo restare soli e in silenzio con lui senza aver paura di sentirci dire che egli sa quali sono quelle verità così profonde nascoste di noi di cui magari noi stessi potremmo vergognarci o sentirci a disagio davanti a lui il signore non ce le dice però per mortificarci o metterci in difficoltà ma per dirci che ci ama sempre e nonostante tutto seconda considerazione oggi nella festa degli arcangeli michele raffaele gabriele che non sono semplicemente messaggeri ma combattenti difensori del messaggio di dio e di chiunque se ne faccia portatore ecco che gesù dice che saliranno questi arcangeli e scenderanno su di lui cioè egli nonostante sarà ostacolato e ucciso per la sua opera il messaggio di salvezza e amore di dio sarà difeso e portato a compimento anche noi in qualità di cristiani e messaggeri dell'amore di dio padre possiamo invocare l'aiuto di questi arcangeli che ci sostengano nella nostra missione di annunciatori di salvezza e tu invochi il signore che ti aiuti ad essere testimone o lo invochi solo per i tuoi desideri buona giornata a tutti